State vivendo nella purificazione che è necessaria in questo momento affinché i miei figli si saldino. I lupi in pelle di pecora sono impegnati ad eseguire gli ordini dell'anticristo, ad alimentare il drago infernale per farlo crescere, appoggiando l'immoralità, l'uccisione di innocenti e la distruzione della famiglia mediante leggi contrarie a questa amata istituzione. La bandiera di questa generazione è l'ignominia e l'immoralità. L'uomo ha dato la mano al demonio, per questo le punizioni non si fermeranno. Saranno così forti che non le potete immaginare. La sofferenza dell'umanità non è lontana da voi, manca pochissimo tempo. Continueranno come stolti a disprezzare e a negare i segni e i segnali, fino a quando la carestia non si impadronirà dell'umanità e i lamenti, uniti alle rivolte sociali, si verificheranno su tutta la terra. Questa carestia è necessaria per l'anticristo, per esercitare la sua forza sui popoli e costringerli a marchiarsi per acquistare cibo, medicina e alla fine li dominerà. La malattia sta avanzando, ne faranno arrivare una dopo l'altra, per continuare a tenermi nella paura e per limitarli. Questa malattia della pelle vi è stata anticipata, le malattie non arriveranno per conto loro. Nei principali santuari di ogni paese, dedicati alla mia Madre Santissima, alberrà un miracolo d'amore materno durante uno spazio di tre ore. Mia Madre vi allerverà in anticipo. La mia croce è segno di salvezza e di redenzione, portatela con voi. Vi benedico con il mio amore.